Il blog e informazione online stanno fortemente condizionando la campagna elettorale americana. Quanto pesa internet nella campagna elettorale italiana? Lei lo domanda a un anziano signore che ancora scrive appena tutti i suoi interventi e quelli che scrive anche per gli altri e poi gli ripasso e si lamentano di non capire la calligrafia. Quindi non sono io la persona più adatta a darle una risposta realistica e con una conoscenza del mezzo che francamente non ho. Io uso anche il computer, uso internet, ma lo usano soprattutto i miei collaboratori. Io sono arrivato quando mi è stato domandato quanti numeri di telefono conosci. Mi sono accorto che ormai ne conosco soltanto due e sono quelli nelle mie famiglie. Ma perché? Perché mi è facilissimo dire chiamami qui, chiamami là, fai super là. E' così uguale con internet e con tutto il resto. Sono sempre meravigliato da come su un aereo tirando fuori un telefonino si riesce a avere tutto. Perché riesce a avere la storia, la tradizione, i numeri, addirittura le fotografie della tua casa per sapere in che condizioni di tempo si è. Quindi io sono ancora molto, e infatti lo dico sempre anche ai miei collaboratori, mi sa che davvero hanno ragione quando dicono che io sono troppo velchio per governare un paese moderno. Però ho il metodo di sfruttare le conoscenze degli altri, di capire che dove non arrivo io devono farsi avanti coloro che le conoscenze le hanno davvero. Mi spiace di averla delusa, ma è la verità.